Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale, sono Giuseppe di LGD Informatica e oggi vi parlo del GMAX C2, il mio nuovo tapirula impiegevole. Il tapirula arriva a casa già tutto montato, quindi dovete solamente tirarlo fuori dallo scatolo e in dotazione troviamo il manuale con tutte le istruzioni, c'è anche la lingua italiana e tante anche illustrazioni, poi abbiamo il cavetto di sicurezza, non è altro che è un elemento magnetico che va inserito nel cruscotto del tapirulan e va agganciato addosso, nel momento in cui c'è qualche problema basta tirarlo, staccandosi questo dal cruscotto riusciamo a spegnere immediatamente il tapirulan, così da poter prevenire eventuali incidenti. Poi nella stessa confezione troviamo anche il telecomando, ovviamente il tapirulan può essere comandato anche dal suo cruscotto, ci sono tutti i tasti, fra un po' lo vedremo, ma abbiamo anche il telecomando con i tasti avvio, stop, più e meno. Il tapirulan può funzionare anche in questo modo, quindi con i poggi a mano abbassati, per occupare magari meno spazio, magari non vi serve, quello magari serve di più quando si va a passo veloce, perché il tapirulan arriva fino a 12 km orari, quindi quando dovete correre magari avere un punto d'appoggio è comodo, in più abbiamo anche il rilevatore di battito cardiaco. In questo modo per farlo funzionare dobbiamo comunque inserire il magnete sul cruscotto, altrimenti anche se è acceso il tapirulan non si avvia. Inoltre abbiamo anche l'unica cosa che dobbiamo fare sul tapirulan quando arriva è utilizzare il lubrificante che è sempre dato in dotazione e un olio di silicone che va inserito nell'ugello specifico, ora vi faccio vedere, qualche goccia, così in modo da tenere lubrificato il tappetino ed evitare eventualmente attriti non necessari. Per poter lubrificare la cinghia dobbiamo innanzitutto togliere questo tappino. Dentro abbiamo un piccolo ugello che serve a recuperare l'olio di silicone che andiamo a mettere dalla boccettina che abbiamo in dotazione. Basta qualche gocciolina e poi in automatico il sistema si autolubrificherà senza alcun problema. Nel caso in cui dovessimo avere qualche problema che ci sembra che la fascia scorra troppo lentamente possiamo senza alcun problema andare a aggiungere qualche gocciolina di lubrificante e procedere al nostro allenamento. Nel caso in cui la fascia sia troppo asciutta una volta inserito il lubrificante conviene aspettare una ventina di minuti in modo che abbia il tempo di defluire e quindi lubrificare la parte inferiore della fascia. In più abbiamo delle chiavi che servono a regolare eventualmente i piedini oppure regolare il tiraggio del tappetino nel caso in cui si dovesse risultare non uniforme lo possiamo regolare da dietro con appunto gli attrezzi in dotazione. Vediamo più da vicino il nostro tapirulan nella parte bassa abbiamo il tasto di accensione se non accendiamo questo non possiamo avviare il tapirulan e abbiamo anche il capo d'alimentazione già è collegato alla presa che ha una spina asciugo quindi non abbiamo bisogno di un adattatore particolare niente di cinese. Nella parte laterale del tapirulan abbiamo le maniglie per poter alzare la balaustra o il poggiamani non so come chiamarlo in gergo specifico. Abbiamo delle chiusure molto simili a quelle che si utilizzano nelle bici per chiudere che so la sella piuttosto che il mozzo della ruota anteriore. Ne abbiamo due e servono appunto a serrare la balaustra. Il montaggio è molto semplice basta allentare i due braccietti tirare su ve lo faccio vedere meglio questo lato una volta tirato su basta andare a serrare e il gioco è fatto. Il nostro tapirulan ha la balaustra tirata su. A questo punto l'unica operazione che dobbiamo fare è girare le braccia laterali. Tutta la struttura è in metallo quindi è abbastanza resistente va benissimo anche per persone particolarmente robuste così è come si presenta il nostro tapirulan con le braccia alzate. La struttura ripeto è molto comoda molto resistente e va benissimo per qualsiasi tipo di corporatura anche se ci correte sopra state tranquilli non ci sono problemi di tenuta. La cosa più importante per poter utilizzare il nostro tapirulan è questo il nostro magnete di sicurezza se non lo colleghiamo al cruscotto principale il nostro tapirulan non si avvia. Vediamo un attivino come è composta la nostra plancia. Abbiamo tassi di avvio e stop con il contatore per le calorie, il battito cardiaco che si attiva tenendo con le mani i sensori sulla sinistra e sulla destra. Abbiamo poi il timer, la modalità, la modalità, velocità, passi e ritmo. Oltre a questo abbiamo la possibilità di utilizzare un'applicazione specifica da collegare al nostro tapirulan. Il nostro tapirulan ha la possibilità di utilizzare un'applicazione si chiama KinoMap che serve a collegare il nostro tablet al tapirulan e poterci allenare seguendo dei piani di allenamento o possiamo anche utilizzare dei video che ci aiutano a camminare come se fossimo ad esempio nella natura. Possiamo attivare l'allenamento sul percorso prestabilito, scegliere la risoluzione delle immagini che dobbiamo vedere e possiamo far partire una nuova sessione. Sediamo avvia. Magari aumentiamo un po' la velocità. Velocità si regola da qui. E possiamo tranquillamente camminare e guardare la nostra camminata nella natura in full HD. E' simpatico, anziché guardare la parete o la tv magari possiamo immaginarci a camminare fra i boschi. In questo caso possiamo volendo anche utilizzare un videoproiettore e installare l'applicazione. Aumentando la velocità aumenta anche la velocità sulla nostra applicazione quindi è come se fossimo lì a correre. Sotto al tapirulano troviamo quattro piedini fissi o meglio possono essere regolati tramite le chiavi che abbiamo visto prima in dotazione e in più in testa abbiamo anche delle ruote che servono a poterlo trasportare e anche a poterlo conservare eventualmente sotto al letto o dietro una porta senza doverci caricare del peso del tapirulano addosso. Perché scegliere un tapirulano pieghevole? Non tutti a casa abbiamo una stanza da poter dedicare alla nostra palestra casalinga quindi avere un attrezzo come un tapirulano che può essere conservato tranquillamente sotto al letto o dietro una porta è sicuramente un grande vantaggio. Abbiamo a disposizione un motore da ben 3 CV, la fascia riesce a sostenere l'allenamento di una persona che pesa oltre i 120 kg quindi è sicuramente un attrezzo che possiamo utilizzare a casa senza alcun problema. Chi pesa oltre i 120 kg probabilmente ha dei problemi fisici tali da non avere la possibilità di poter correre su un tapirulano quindi anche se avesse voglia di farlo io ve lo sconsiglio magari avete pensato a sentire un ortopedico perché 120 kg sulle ginocchia pesano parecchio. Allora perché acquistare un tapirulano come questo qui? Innanzitutto è un attrezzo che a prescindere dal modello specifico che ci permette di poterci allenare a casa senza bisogno di andare in palestra senza bisogno di doverci preparare vestirci bene spostarci da casa a palestra eccetera con questo lo tiriamo fuori da sotto al letto di dalla porta ovunque voi preferiate conservarlo lo accendete e vi allenate. In più possiamo collegarci il telefonino e il tablet per poter rendere allenamento più divertente anche per tenere traccia dei progressi che facciamo. Questo modello specifico il G-Max C2 la struttura è tutta quanta in metallo il motore ha 3 cavalli quindi vi permette di avere una potenza abbastanza consistente ci potete correre non solo camminata svelta le plastiche sono di ottima qualità e che dire io vi posso lasciare il coupon sconto in descrizione per poterlo acquistare su Banggood al prezzo più basso in questo momento in offerta quindi vi consiglio di approfittarne e vi lascio alla prossima recensione se vi è piaciuta questa se vi interessa vedere qualche altro prodotto recensito da noi lasciate un like e vi iscrivete anche al canale ultimamente stiamo crescendo parecchio e la cosa mi fa sicuramente piacere in questo modo significa che il nostro lavoro a voi piace ed è utile quindi grazie ancora a tutti quelli che già si sono iscritti e grazie anche a chi vorrà iscriversi da adesso in poi attivate la campanella così se abbiamo nuove recensioni vi arriverà la notifica direttamente sull'applicazione e vi lascio alla prossima saluti da giuseppe di lg di informatica e buon allenamento non dimenticate che la prova costume non è mai troppo lontana grazie a tutti